Noi denunciamo questa truffa e questo imbroglio fatto sulla legittima difesa e sulla sicurezza dei cittadini da parte del Partito Democratico e da parte del Governo. Noi un anno fa, proprio per affrontare l'emergenza e l'allarme e sicurezza che sta investendo il nostro Paese, abbiamo presentato a febbraio del 2015 una proposta di legge sulla legittima difesa per rendere effettivo il principio della legittima difesa e in modo particolare per sancire il diritto da parte del cittadino di poter reagire rispetto all'aggressione all'interno del proprio domicilio. Quindi per superare quello che oggi è il nodo di maggior difficoltà nell'interpretazione dell'Istituto della Legittima Difesa che è la presunzione di proporzionalità tra difesa e offesa, che è lasciata a un giudizio di valutazione da parte del magistrato. Noi vogliamo superare questa proporzionalità tra difesa e offesa, vogliamo che il domicilio e quindi l'abitazione sia sacra ed inviolabile e vogliamo che il diritto da parte del cittadino di poter reagire ad una violenza per difendere i propri affetti, la propria incolumità all'interno del proprio domicilio e della propria abitazione sia sempre un diritto e mai un reato. Secondo il principio per cui chi si difende da un reato non può mai essere processato, non può mai essere indagato. La domanda che ci poniamo è con quale diritto lo Stato mette sotto processo, condanna un cittadino che si difende da un reato, reato che lo Stato stesso avrebbe dovuto impedire. La legittima difesa è un'aderoga all'uso della forza da parte dello Stato. Lo Stato ha il diritto e il dovere di utilizzare la forza per difendere il cittadino, se lo Stato non lo fa inevitabilmente il cittadino deve potersi difendere. E noi quindi presentiamo questa proposta di legge che ieri è stata bocciata, ieri sia il governo sia i partiti di maggioranza hanno bocciato la nostra proposta di legge, hanno affossato la nostra legge e l'hanno sostituita con una norma, con una finta norma, con una finta fasulla modifica della legge sulla legittima difesa. Noi denunciamo fortemente, ieri c'è stata anche una rissa all'interno della Commissione di Giustizia su questo tema, perché noi abbiamo detto, io da relatore ho sempre dato la mia disponibilità al confronto sulla legittima difesa, ma mai al compromesso. Sulla tutela dei diritti dei cittadini la Lega non accetta alcun tipo di compromesso. Non facciamo passi indietro, la nostra norma è stata scritta con giuristi importanti, a solidità sia da un punto di vista giuridico sia da un punto di vista costituzionale e non vogliamo mai più che vicende come quelle che si sono verificate in questi ultimi mesi, ad esempio il caso di Antonio Molella, ad esempio il caso di Ermes Mattielli, ad esempio il caso di Stacchio, ad esempio il caso del pensionato di Vaprio d'Adda siciniano, debbano trovarsi a dover giustificare di fronte a un magistrato, semplicemente o peggio ancora essere condannati, come è capitato all'imprenditore bergamasco Molella, di dover subire un processo la cui unica colpa è quella di aver difeso la propria vita, la propria incolumità, bene prezioso e non barattabile, rispetto a un atto di violenza da parte di un criminale. Il principio è chiaro, tu criminale entri in casa mia per commettere un reato, entri in casa mia per rubare o per delinquere, tu devi sapere che alla tua violenza deve e può corrispondere la mia violenza unicamente per poter difendere quello che di più caro ho, ovvero la mia vita. Non introduciamo il far west, non introduciamo l'incentivo alle armi, vogliamo semplicemente che ci sia una norma estremamente chiara, una presunzione legale di legittima difesa che consente al cittadino di difendere rispetto all'ingresso che noi specificiamo in maniera estremamente chiara, perché mettiamo delle condizioni oggettive rispetto alle quali il comportamento del criminale deve essere ancorato, che consente in maniera chiara, inequivocabile, non interpretabile, non lasciata al giudizio di discrezionalità da parte di un magistrato, la possibilità di decidere se c'è oppure no la proporzionalità tra offesa e difesa. Questo è il motivo per cui noi facciamo questa gravissima denuncia, la sinistra cede sulla sicurezza, la sinistra baratta la sicurezza dei cittadini per l'impunità nei confronti dei criminali, l'abbiamo già fatto sui quattro svuotacarci, cinque svuotacarci che la sinistra ha approvato in questi cinque anni ed è il motivo per cui noi rinunceremo come io rinuncerò al mandato relatore su questa proposta di legge che non è la nostra proposta di legge, quella del Partito Democratico, che è una proposta totalmente inutile, anzi peggiora il principio della legittima difesa, presenteremo in aula il nostro testo, andiamo in aula e in aula promettiamo battaglia, perché la sicurezza dei cittadini, soprattutto in questo momento, non è un bene barattabile.